Buona giornata, buona domenica e soprattutto buona Pasqua Ortodosso. Oggi siamo collegati con la Romania, alcuni collegamenti li abbiamo fatti nei giorni scorsi, altri sono in diretta oggi, adesso vedremo un po' come riusciamo ad organizzarci. Siamo in collegamento con la Romania per parlare della Pasqua Ortodossa, ma parleremo anche della Pasqua Ortodossa in Italia, della Pasqua Ortodossa vissuta in questo periodo di distanziamento sociale, si chiama così anche in Romania, che ha tempi e modi un po' diversi dai nostri, ma lo scopriremo. Intanto vedo che si è già collegato con noi Mia Ilbibicu, che è il direttore dell'Orfanatrofio del Don Romania, un orfanatrofio con il quale il canavese Castellamonte in particolare ha un ottimo rapporto per i trascorsi degli aiuti che erano stati fatti in una sorta di gemellaggio del canavese con questo orfanatrofio. Allora, con l'aiuto anche della nostra Presidente, vedo anche lei collegata, voi forse non la vedete, ma io la vedo, Felicia, che ci farà un po' da traduttore, poi noi avremo la traduzione simultanea, quindi ve la daremo anche, quindi avremo la traduzione in italiano. Ovviamente sentiamo come si vive questa Pasqua, la Pasqua è comunque una Pasqua, è comunque una festività religiosa molto importante, certo non c'è la serenità, certo alcuni riti non si possono celebrare come tradizionalmente si fa, però in qualche modo credo, se non sbaglio Mia Ilbibicu, che anche lì è l'Orfanatrofio, credo che comunque in qualche modo la Pasqua verrà celebrata. Allora, diamo subito la parola, lo vedo già collegato, mi pare che vada tutto bene, allora Mia Ilbibicu, raccontaci un po' tu quello che sta succedendo lì da voi in Romania e nell'Orfanatrofio. Dice come vi spuneam, le cose non sono bucuratoie, perché assolutamente tutta la lumea tràiesce presione e tristezza a isolamenti, e in plus di questo, fiecare dintre noi... Cari amici, è un periodo molto triste quello che stiamo attraversando, si sente la tristezza a causa di questo coronavirus, non possiamo essere gioiosi, gentili in questo momento, perché si vive con tanta pressione e tristezza e molta scontentezza a causa delle dinamiche che rappresenta questo virus. Se pensiamo alle feste pasquali ci rattristiamo di più, perché noi siamo abituati a rispettare certe regole emesse dal governo per la situazione di emergenza emesse dal nostro Paese. Non possiamo uscire in più di due persone dal nostro Orfanatrofio e per quanto riguarda la Chiesa è purtroppo impossibile assistere alle messe. Le messe sono sospese e con questo l'attività della vita religiosa in Romania. Ma non posso dimenticare quello che sono i paroci. I paroci possono celebrare le messe, ma i fedeli non possono assistere. Per noi ortodossi questo fatto è motivo di sofferenza, perché durante la Settimana Santa, che è appena terminata, normalmente eravamo abituati a partecipare alle messe di tutta la Santa Pasqua. Così ci preparavamo per accogliere la luce di Gesù nel giorno della Sua Ressurrezione. Durante questa Settimana Santa tutti noi prepariamo le nostre case, i nostri giardini, così come prepariamo il nostro spirito. Il Giovedì Santo è tradizionalmente dedicato alla pitturazione delle uova, le uova tipiche che noi abbiamo come segno di Pasqua. Il venerdì prepariamo i nostri dolci e i nostri prodotti tipici pasquali. E il sabato cuciniamo in anticipo, perché da mezzanotte si comincia a non poter più cucinare, perché la messa di resurrezione dà inizio alla Pasqua di Gesù. ...să ia acasă și prin prezenza luminii, într-o candelă, în fiecare gospodărie, insemna bucurie, prosperitate și așa mai departe. În perioada asta de isolare datorită virusului Covid-19, lucrurile sunt foarte stricte. Nimeni nu are voie să iasă din casă. I anni passati participavamo in chiesa con tutti i bambini alla messa, perché era più importante per noi ortodossi, perché si riceve la luce della Santa Risurrezione. Luce che portavamo nelle nostre case con una candela, questa luce ci rendeva gioiosi e ogni famiglia si sentiva più al sicuro, portando questa lume, che era la luce di Gesù risorto. Noi, de exemplu, ne-am gândit că, fiind o situație mai deosebite, în care tristeză... ...questo periodo di quarantena rende le cose diverse. Questa partecipazione della Santa Messa non ci sarà in chiesa, ma lo faremo attraverso la televisione. Nel nostro fanatrofio abbiamo deciso quest'anno con i ragazzi di non preparare nulla, solo perché l'aria che si respira non è quella delle migliori stagioni. Prepariamo sì i cibi tradizionali, festeggeremo la Pasqua, ma in un modo diverso, ognuno con la nostra famiglia. Naturalmente noi la passeremo con i bambini dell'orfanatrofio, tutti insieme, perché nulla ci può dividere. O veste bună avem totuși de la Patriarhia Română. Patriarhia Română, ca în fiecare an, aduce Lumina Sfântă de la Ierosalim. Chiar dacă și Israelul este în izolare, lucrul ăsta se va întâmpla, va fi adus la București și de la București preoții din fiecare regiune a țării vor prelua Lumina și o vor distribui prin intermediul unor voluntari. Quest'anno, però, abbiamo ricevuto una bella notizia dal Patriarhia Ortodosso Română. Il Patriarhia Ortodosso Română. Il Patriarhia Ortodosso Română. Tutti gli anni si occupa di portare la Luce Santa di Cristo direttamente da Gerusalemme. Questa tradizione il Governo ce la concede. E una volta giunta la mezzanotte di sabato, i parroci di ogni città, di ogni provincia, hanno portato la luce che hanno preso da București nelle loro parrocchie. E andranno direttamente dalle famiglie ortodosse di tutta la nazione. La tradizionale messa di mezzanotte quest'anno si è svolta con la chiesa senza partecipanti, così come anche da voi, Pafa Francesco, ha tenuto la messa con la piazza della Basilica di San Pietro Vuota. Bineînțeles, bineînțeles că ei cu toții știu ce se întâmplă. În primele zile s-au bucurat că nu merg la școală. Și după aceea au înțeles ce înseamnă virusul. Ne-am prezentat și am avut discuții cu ei în privința diferenției între virus și bacterii, cum anume trebuie să ne văzim. Sucuramente i ragazzi di Mogosiavaya capiscono perfettamente la gravità di questa pandemia. Inizialmente erano molto contenti perché non se andava a scuola e potevano stare più tempo a giocare e a stare insieme. Però pian piano abbiamo spiegato loro che cosa stava succedendo, che cos'era la quarantena, che cosa sono i rischi di questo virus. Au activități gospoderești în care fiecare din copii este implicat într-o muncă gospoderească. Unii ajută la bucătărie, unii dau mâncare la animale. Avem o curte mare cu iepurași, foarte mulți iepurași, păsări, câini. Și fiecare dintre copii are atribuțiunile lui. După ce își termină atribuțiunile, intervine parte educativă, în care educatoarele îi pun la lecții. E foarte importante. E cum poteva cambiare le qualită de la loro vita? Cerchiamo sempre di organizzare bene il loro impegno. Dopo la colazione, ogni mattina si inizia la scuola, come se fossero in classe. Alcuni sistemano le stanze, altri aiutano la cuoca nei preparativi. Poi ci sono i nostri animaletti, abbiamo le galline che ci danno le uova, e poi tanti cagniolini, gattini. Ognuno, quindi, è il suo compito da svolgere, oltre quello dello studio, ovviamente, che è sempre rimasto costante, un po' come succede anche da voi. Își fac de lucru, în jurul orei 4-5, și ieșind pe terenul de sport, alergă, își consumă energia, pentru că terenul e al nostru și nimeni nu mai îl folosește. Il pomeriggio è occupato anche della parte educativa. Grazie alle nostre educatrici possiamo portare avanti gli studi dei nostri ragazzi, e alcuni sono universitari fra i nostri studenti, e seguono i corsi online, mentre i più piccoli hanno i giochi educativi mandati dalle classi. Il tempo libero andiamo a farle giocare all'esterno e hanno a disposizione, oltre che la TVU, la Playstation, il campetto all'aperto, quello di calcio. Facciamo delle partite, perché noi possiamo stare insieme. La Fanatrofia è una comunità, come una famiglia, quindi possiamo vivere insieme i nostri momenti, anche in quarantena. Per questo fine settimana abbiamo deciso quindi di non celebrare grandi riti. Faremo solo la Santa Pasqua, il tavolo addobbato a festa, avremo i nostri cibi, soprattutto per i più piccolini. Prepareremo le nostre tradizioni di uova. I ragazzi hanno avuto la possibilità di colorare, dipingere le uova. Poi abbiamo aspettato tutti insieme la Santa Mesa e poi la luce di Cristo, che ci porteranno i preti ortodossi, i volontari. E' molto bene stare uno con l'altro, adică să te ajutti. Per me è molto importante stare vicino alla mia seconda famiglia e a tutti i miei amici che ho qui al centro, anche se mantengo ancora i contatti con la mia famiglia originaria. Mi mancano le cose che facevo prima, mi mancano scuole, i miei compagni, i miei amici, la possibilità di uscire, fare le mie attività sportive. Spero veramente che tutto questo finisca presto. Spero che finisca davvero prima della fine dell'anno scolastico, perché vorrei salutare ancora i miei compagni, i miei insegnanti e rivedere i miei amici. Io ho aspettato anche io. Cari amici, prima di salutarvi vorrei augurarvi ogni bene. Vorrei augurarvi una Santa Pasqua, che voi avete già trascorso, e augurarvi tanta, tanta felicità, sperando di poter passare in modo rapido questo periodo difficile. Vi ricordiamo sempre e vi incoraggiamo sperando che la rucce della risurrezione ci porti fuori dalla pandemia al più presto. Perché, amici, Cristo è risorto per noi. Grazie, grazie davvero per questa testimonianza. Grazie anche, ovviamente, a uno dei tuoi ospiti che con voi passerà a passa oggi questa giornata di Pasqua ortodossa. Nel frattempo abbiamo altri due collegamenti. Direi di dare, per motivi istituzionali, la precedenza al sindaco di Rasta, l'ingegnere Julian Silistenau, credo si dica così, mi perdonerà se la pronuncia non è proprio esatta, perché cerchiamo di capire anche come si vive dal punto di vista istituzionale. Qui, sapete, si parla molto di politica, soprattutto di come le istituzioni, il governo, le istituzioni locali affrontano questa pandemia. Vediamo un po' che cosa succede invece in Romania, dove poi le cose non sono così diverse da noi, anche se è arrivata un po' più tardi la pandemia, lì mi pare. Noi so, questi evenimenti privano il virus, questo ha nenorocito, il duzmano sta, invisibile, ne ha făcut să ne depărtăm. stiamo vivendo dei momenti molto difficili, del vostri, stiu, stiu, cunosc molte detalii despre această boală, e dal punto di vista di informazioni, ma anche dal punto di vista del mio, come professore, come meserie. stiu, vorrei augurare innanzitutto tanta, tanta salute. într-adevăr, religioase, stiu, 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 am promovat la nivel de localitate distribuirea de prescura, adică de Paște, cum este obiceiul la noi, cu pungulițe de folietilene de plastic, cu ortoare care în caz de să duce dimineața sau noi cittățeanul acasă, să o punem în poartă să-și găsească prescura, adică Paștele luat de la biserică, și în venirea... Abbiamo organizzato insieme ai volontarii del nostro comune la distribuzione sia della luce di Cristo attraverso le candele accese in tutto il paese, sia attraverso la distribuzione di pacchetti di generi alimentari per i più bisognosi, în moda că tutti possano festeggiare la Santa Pasqua. În altă parte, ce nu riește să transmită, să transmită un messag, să transmită un poate pentru prieteni miei din Castellamonte. În questa Settimana Santa preghiamo per il vostro paese e per il nostro paese. Sono vicino ai miei amici di Castellamonte con la preghiera e sono sicuro che si supererete questo momento triste e ci rivedremo presto. Într-adevăr, comunitatea își respectă ordonanțele și indicațiile transmise de Guvernul României. Stau protejați, stau curte, să zic așa, nu numai neapărat în locuință. Noi trăim în mediul rural. În face de mediul urbani trebuie să stea în un apartament în Chieși. La noi e mai benefic în sensul că din casă mai iasă în grădină, mai la o cultură nebumiculă, mai la o întreținere a unor confructiferi și nu în ultimul rând, să zic așa, chiar dacă iasă la poartă, cum zice noi, la ușă, la curte, mai schimbă cuvintele cu vecinul de peste stradă, de peste micropii, altfel. La nostra comunită, rispettă i decreti e le indicazioni del nostro Governo, fortunatamente la nostra zona rurale, ogni famiglia ha il suo proprio cortile, ed è più facile superare una quarantena così lunga. Ed è molto importante per tutti avere la possibilità di uscire dalle quattro mura anche solo per vedere il sole. Il Governo ci ha permesso di continuare il lavoro agricolo, anche perché nella nostra zona si collegano molti cereali, ed è importante portare avanti questa produzione. nella nostra tradizione c'è un canto molto amato da tutti noi, che dice Dio, prenditi cura di tutti i rumeni. E io oggi voglio dire Dio, prenditi cura dell'Italia, perché voi in questo momento ne avete più bisogno. Era la miezul nocții, non convine să-și lătramez, dar mă și mișcă, într-adevăr, la ora 12 noapte, când preotul zicea că fraților luați lumină, lumină din lumină, era, să zic, un eveniment așa, foarte nostri, foarte, să zic așa, emoționali. Deci, într-un an, data la ora 12 noapte, la vierea, mântuitor lui. Per noi la cosa più importante è la luce di Cristo. C'è la tradizione di portare in ogni casa la luce di Cristo, perché ci emoziona ogni anno, ci fa sentire diversi, ci fa sentire più liti e più felici. Nella nostra religione, Cristo è come un genitore e per questo che il periodo di Quasca è così importante per noi. Am o urare mai plastică, așa să zic, Doamne, o protește pe răsteni, Dumnezeu să-i binecuvânteze și de boală să-i protejeze. Adică să-i protejeze Dumnezeu în sensul de a nu să-i infecta, să zic corect, infecta, cu acest nemnolociv, să zic așa, cu acest virus nociv, care se incerce să fiu și datorită profeziei. Știu că este o mutație genetică, știu că e fabricat în laboratoare, dar vreau să fac o paranteză că acest virus nu este fabricat de natura, pentru că natura n-ar fi creată o asemenea. Vorrei augurare la mia comunità tanta salute e spero che Dio ci prodechă da questo virus. Vorrei solo esprimere un mio pensiero personale per quanto riguarda questo virus. In quanto ingegnere zootecnico posso dire che questo non è arrivato dalla natura. È una mutazione genetica, un'elaborazione di laboratorio. Dal mio punto di vista la natura non potrebbe creare un virus killer da sola. La natura è sempre stata buona con noi. Sì, ci sono stati tanti anche virus trasmessi dagli animali come l'influenza suina o la febbre della mucca pazza, però non hanno mai ucciso così tante persone. Non credo ai racconti di fantasia, perché questo virus è composto da più radici ibride e di più virus messi assieme. L'umanită non è preparata all'attacco biologico di questo tipo. Dicevano voi se le spune i locuitori, le comunità di una vostra e i cittadini in Italia. In chiusura voglio augurarvi tutto il bene a tutti. È una serena Pasqua agli ortodossi e un saluto particolare ai miei amici di Castellamonte. Buon tutto a tutti. una situazione difficile quindi anche quella che si sta vivendo lì da voi. Abbiamo visto l'orfanatrofio, abbiamo visto le istituzioni, il sindaco di Rast, che ringraziamo ancora per essere stato con noi. Come la vive la gente normale, la gente comune, la gente come noi questa situazione? Allora, con noi si è collegato e ha ascoltato anche, devo dire, la conversazione, un vecchio amico del Canaveso, un ex colonnello della protezione civile di Bacau, Catalin Feleggianu. Anche qua la pronuncia sarà quella che è. Lo vedo mascherita, con mascherina o senza mascherina. Lui adesso mi pare sia pensionato e poi ce lo confermerà lui. vediamo come si vive da pensionato questo periodo. Acum, rispetto indicazioni le dati di autorità, stavo a casa. Ea lucreazza, non ha potuto interrupe. Da qualche anno sono pensionato e posso dire che questa quarantena per me è iniziata quando sono diventato pensionato. mia moglie continua a lavorare, mia figlia abita a Londra, mio figlio a Berlino. Loro possono svolgere il proprio lavoro da casa. Però adesso stiamo tutti bene e speriamo in Dio che tutto questo finisca presto. da quando siamo in quarantena anche gli scolari hanno dovuto cambiare le loro abitudini. Così come noi quest'anno per Pasqua cambieremo le nostre abitudini senza però perdere le tradizioni. Sarà una Pasqua diversa, sicuramente. Saremo molto responsabili per far sì che questo anno che questo virus non si diffonda perché come tutti sappiamo perché è un virus silenzioso e per questo che serve più responsabilità per proteggere gli altri e proteggere noi stessi. di mâncare e așa mai departe o altre materiale di care ai nevoie acasă e non ti protejezi riscul di a infectare altcineva este foarte mare. Atunci cu sicuranță trebuie stăm acasă deci anul ăsta probabil che non mi mai vede nici cu frații nici cu sororele cu părinții din păcate nu ne mai putem vedea Sarà una Pasqua quindi particolare festeggero solo con mia moglie non potrò vedere nessuno dei parenti non potremo vedere i nostri fratelli e le nostre sorelle purtroppo sia mia moglie che io siamo rimasti senza genitori in questi anni ma non possiamo fare niente è così la vita dobbiamo andare avanti dobbiamo curare i nostri figli aiutarli e quel che ci resta del tempo lo useremo per godere la pensione ogni anno quella di portare la luce di Cristo nelle nostre case e per quest'anno sarà possibile grazie ai volontari e ai paroci delle nostre chiese non potremo partecipare non potremo partecipare alla messa di mezzanotte e non potremo cantare tutti assieme il canto Cristo è risorto ho pensato di offrirmi volontario per aiutare la mia comunità quest'anno con la distribuzione della luce attraverso le candele so benissimo quanto è importante la protezione ma prenderò alla lettera tutte le precauzioni prepareremo il pranzo pasquale come tutti gli anni non mancherà l'agnello non mancherà il dolce molto simile alla vostra colomba e neanche le uova colorate sarà un pranzo ricco di cibo ma povero di animo grazie per il vostro invito vi auguro una serena Pasqua e tanta tanta salute grazie grazie anche per questa testimonianza poi l'avrete vista forse l'avete vista si è collegata anche Stefania Stefania Gheorghe che nei giorni scorsi venerdì sabato ci ha dato alcune pillole di come si vive le tradizioni della Pasqua ortodossa in Romania però è a casa come tutti noi ovviamente perché anche lei deve rimanere in casa per questo distanziamento sociale che è l'unico modo per combattere a quanto pare per il momento questa pandemia quindi Stefania anche per te rimanere a casa è l'unica possibilità quindi poi in perio adesso a voi sia l'autore di famiglia di torinzi prietenoli mio acasă nimic special adică vom sta in casa vom pune masa clasica quest'anno festeggerò la Santa Pasqua insieme al mio compagno e ai suoi genitori staremo tutti in casa non ci mancherà niente dal pranzo pasquale ma ci mancherà i miei genitori e i miei parenti noi noi in fiecare anno di Pasqua mergeam di non poter andare di non poter andare dai miei parenti per augurare una serena Pasqua e anche di non poter incontrare le mie amiche e i miei colleghi di lavoro insieme alla mamma del mio compagno abbiamo fatto la spesa abbiamo ordinato i dolci e l'agnello dipingeremo le uova e prepareremo i nostri cibi tradizionali penso invece con ansia e dolore a questo periodo perché non abbiamo mai passato dei momenti così difficili sembra surreale il fatto di non poter andare in chiesa di non poter vedere le persone care di non poter svolgere i nostri impegni speriamo che tutto torni alla normalità per poter riprendere la nostra vita in prima volta rispetto ai regoli le autorità allora la modul che sono numeri in parco che si fa che grattare e si ha orci al lucro perché la televisione se tot spune non mergeti la famiglia di străbătore adică adică io se mă duc la mamă excluz ci paște felicit sanatate na că di fapt asta è cea mai importantă vorrei dire a tutti di resistere di andare avanti con ottimismo perché tutto questo finirà auguro una serena Pasqua e tanta salute speriamo di poterci rivedere presto al lavoro per strada alle feste per poterci abbracciare sorridere e chiacchierare da vicino un abbraccio virtuale per adesso e vi auguro una felice e serena Pasqua un momento difficile quindi che passerà quindi chiaro che passerà deve passare per tutti qui in Italia per noi per voi in Romania allora abbiamo detto e abbiamo parlato di come si vive in Romania a questo momento ma soprattutto della Pasqua ortodossa perché ricordiamoci che è per in occasione della Pasqua ortodossa che ci siamo collegati abbiamo avuto i nostri ospiti rumeni Pasqua ortodossa che festeggiano anche gli italiani ovviamente i rumeni che vivono in Italia che sono di religione ortodossa noi dovremmo sì abbiamo abbiamo il collegamento sì perfetto allora sentiamo come si vive ovviamente la Pasqua ortodossa qui da noi non in modo molto diverso da come si vive ovviamente anche in Romania senza fare niente sì un po' non è non si sta tanto bene perché ti senti chiusa un po' priva di libertà di muoverti di andare anche al lavoro per esempio è un po' problematico perché con il lavoro certo se non si lavora non si guadagna quindi questo è un problema noi adesso siamo se aspettiamo la Pasqua siamo in preparazione perché si inizia un po' prima questa settimana è una settimana un po' più particolare perché tra la preghiera è il cibo che si mangia un po' di meno diciamo così che non puoi mangiare la carne la tradizione è di non mangiare la carne questa settimana di avere con le preghiere di fare più preghiere così e poi da giovedì si inizia i giorni più importanti trovare con le persone con i gruppi anche per la chiesa perché da noi la messa è a mezzanotte a prendere la candela che ti lo fa il prete che si accende a mezzanotte la candela tutti i ortodossi passano a prendere la luce e lo portano fino a casa che è quella e poi il giorno dopo che con la famiglia e gli amici che si fanno le scampagnate questo anno no facciamo di tutto per proteggere però in generale in Romania si risente di più perché sono i nostri genitori che sono rimasti in Romania sono più anziani sono più deboli e hanno un po' più paura loro certo la mass media forse è un po' più invadente mettiamo così con la famiglia e quindi sì i numeri che spaventano perché contagiati tra i contagiati tra quelli che muoiono fanno paura perché fanno paura quando ti dicono che sì sono morti 20.000 persone sì e poi il contesto perché non puoi stare vicino alla persona dalla famiglia che è malata quando si muore non si può fare la sepoltura tutto questo è un po' che fa più male che in generale di tutta la situazione nel mio paese dove abito io ci sono raggruppati delle persone che hanno possibilità di darle un pasto caldo un giorno sì un giorno no alle persone che non possono andare a fare la spesa che non possono uscire che non hanno un'assistenza giornaliera sì ci sono mobilizzati si stanno aiutando uno con l'altro il comune diciamo magari con le possibilità un po' più limitate come qui in Italia però quello che possono fare sì lo fanno sì perfetto mi pare che abbiamo detto un po' tutto quello che potevamo dire con i nostri ospiti con i nostri collegamenti su questa giornata importante per i cristiani di religione ortodossa e quindi a loro possiamo fare gli auguri a tutti noi ci facciamo gli auguri che finisca presto questa emergenza a loro facciamo auguri speciali in occasione della Pasqua ortodossa e anzi invece di farli noi per noi e la lasciamo senza traduzione questa perché sono gli auguri per gli amici romeni quindi la lasciamo in lingua romena per noi gli auguri di Buona Pasqua Buona Pasqua ortodossa li farà Mario Ara Mangorghe che si è collegata con noi e poi in chiusura per tutti gli auguri invece di Felicia e Lucas e noi ci rivediamo qui sulla Memoria Viva per parlare poi invece del 25 aprile a partire da domani o datà l'am văzut trecând cu turma pe păstorul blând mergea cu turma la izvor blândul păstor blândul păstor o aie ce căzuse jos a ridicat-o el frumos și-a dus-o în brațe la izvor blândul păstor blândul păstor el el le-a iubit cu dor nespus și viața pentru oi și-a pus și pentru mântuirea lor blândul păstor blândul păstor când l-am văzut l-am întrebat cine sunt cei ce te-au scuipat atunci atunci a suspinat ușor blândul păstor blândul păstor și-mi aș optiduios și-l cei ce mi-au pus cu nunii de spi sunt oile ce le-am fost lor un blând păstor un blând păstor iar cei ce mă bat jocoresc și cei ce cruceam pregătesc sunt cei la care iubitor le-am fost păstor le-am fost păstor iar cei ce mă lovesc turbat sunt oile care pe braț le-am dus la câmp și la izvor ca un păstor ca un păstor tăcuși ochii lui senir de lacrini pe zi erau plini plângea mila oile lor plântul păstor plântul păstor și atunci oile au venit pe cruce sus l-au răstâgnit iar el plângea de mila lor plântul păstor plântul păstor iar el plângea de mila lor plântul păstor plântul păstor păstor Christos a înviat adevărat a înviat Christos e risort e vero che e risort păstor